Ed eccoci qua ragazzi, buongiorno! Siamo al Ponte delle Barche e oggi ne abbiamo approfittato per fare una gita fuori porta con il piccolo Cooper perché ha completato tutti i suoi vaccini e essendo coperto possiamo anche provare a fargli fare un bagnetto. Vediamo come va! Eccolo qua, il nostro fantastico Cooper è pronto per il bagnetto? Che dici Cooper? Allora? Che bravo! Sì! Prendilo Cooper, prendilo! Prendilo Cooper, dai! Bravissimo! Bravo! 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 Vieni, bravissimo! Vai, 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 bravissimo! Bravissimo! Vieni, 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 bravissimo! Grazie a tutti